air game 2013 siamo qui con parte della giuria silvia di sbg style.it ciao ira e il nostro presidente di giuria nonché presidente della camera degli acconciatori presidente della camera degli acconciatori nazionale luca stella ciao a tutti è stato un air game importante è stata una bella mazzata diciamo molto in grande sicuramente un grande evento con ragazzi super preparati perché io da possibile spettatrice diciamo mi sono resa conto di una manualità una tecnica una professionalità veramente per dei ragazzi così giovani un po fuori dal comune infatti abbiamo parlato tanto di formazione sì direi io era la prima volta che vedevo ero presente a una manifestazione del genere molto bella mi è piaciuta dal punto di vista organizzativo e soprattutto mi sono piaciuti questi ragazzi che hanno dato il meglio di loro stessi insomma considerando che hanno un'età hanno 17 16 anni quindi sono ancora diciamo a livello scolastico hanno fatto dei lavori bellissimi e poi alcuni di loro sono anche maturi dal punto di vista direi intellettuale nel senso sono pronti ad affrontare anche l'apertura di un salone come il vincitore per esempio lo vedo già già calato nel ruolo al cento per cento quindi molto preparati assolutamente infatti abbiamo sottolineato la necessità di avere una formazione costante nei mestieri artigianali e comunque sia oggi abbiamo visto che oltre alla tecnica pura c'è stato un estro incredibile un lavoro di concettuale anche di studio e qui c'è una delle peggiori giurate che abbiamo avuto oggi peggiori nel senso proprio di cattive perché tu da esperta di moda appunto ti sei occupata anche un po di una gestione del look non solo della tecnica pura a livello di acconciatura ma appunto di un riuscire ad affrontare lo spauracchio delle clienti che abbiamo scoperto essere il grosso quid di questa professione sì ma sicuramente quando parliamo di look parliamo anche del famoso trucco e parrucco che sono una una voce diciamo ineluttabile non si può non si può scappare nel trucco e parrucco anzi a volte fa molto a mio avviso fa molto di più il parrucco addirittura il tuo resto perché una persona può avere anche lo stile più semplice anche non alla moda diciamo ma se una persona si presenta con una piega un capello ben fatto può girare anche tutta la vita in jeans e maglietta per come lo vedo io che comunque sia in ordine perché è il solito discorso che io ripeterò fino alla nausea che l'abito fa il monaco e l'abito sono anche sono anche i capelli e dato che questi ragazzi comunque vivono in un mondo dove non c'è più il barbiere la mia non la chiamava pettinatrice e comunque anche un mondo dove non c'è più diciamo la tendenza unica di quell'anno pensiamo al boccolo anni 50 al riccio anni 70 c'è molta più è molto più variegato il mondo quindi è necessario anche essere secondo me preparati dal punto di vista dello styling quindi qualsiasi cosa anche appunto l'abbigliamento lo stile di vita quello che si fa normalmente per appunto poter dare un prodotto finito che sia soddisfacente quindi sia una preparazione appunto a 360 gradi anche nell'accoglienza del cliente nel nel consiglio se per consigliare una delle domande infatti è stata ma se arriva una cliente ti chiede un qualcosa di fondamentalmente sbagliato per lei come lo affronti quindi anche una gestione del del tuo interlocutore e una una base imprenditoriale fondamentalmente quindi si punterà tantissimo su queste nuove leve e noi siamo tanto contenti che si dia spazio ai giovani direi ringraziamo tantissimo il presidente luca stella un'ultima cosa volevo dire un messaggio così breve viviamo un momento di crisi perché è inutile nasconderlo ormai ha colpito pesantemente anche il nostro settore e ci sono delle cose secondo me indispensabili da fare perché non ne usciremo non ritorneremo come prima se ne uscirà in una maniera completamente diversa nessuno ancora sa come però sarà così e noi per esempio abbiamo una realtà in umbria una cooperativa dove si sono associati 2.400 saloni è un gruppo d'acquisto quindi si acquista quello che serve per non fare magazzino nel salone e quindi questo è un vantaggio per l'acconciatore questo gruppo d'acquisto la cooperativa carpe ha scelto come etica cioè come proprio rigorosa regola di non vendere né al pubblico e di non vendere nemmeno vendere ai dipendenti solo su autorizzazione del titolare questo perché ci sono molti grossisti oggi che vendono al pubblico e vendono agli abusivi quindi che fanno è un doppio danno perché tolgono una fetta di mercato importante che è quella della rivendita nel salone che è un valore aggiunto per un salone e quindi c'è un calo pazzesco sulla rivendita e riforniscono gli abusivi quindi una doppia concorrenza sleale da due parti ecco qui inviterei anche i colleghi a riflettere cioè in prima persona perché poi magari si prende ce la si prende con confrattigianato con cna perché non rappresentano adeguatamente la categoria ma io credo che serve una parte io la chiamo partecipazione consapevole quindi porsi in prima persona a fare delle scelte quindi cominciamo da qui ragioniamo noi stessi se è per noi categoria etico acquistare da questi grossisti perfetto quindi abbiamo anche sottolineato il la necessità appunto di unire diciamo le forze per combattere la crisi e per aiutare questo settore a mantenersi sempre a un livello qualitativo e di professionalità eccellente qual è sicuramente l'ambito italiano per cui ci ha fornito anche uno spunto per idee e tutele strumenti legali per poter far fronte o quantomeno tentare di far fronte a questa crisi per cui io vi ringrazio tantissimo siete stati disponibilissimi è stata una bellissima esperienza e tutto grazie anche a voi quindi ringrazio silvia di sbg style.it e il presidente luca stella grazie mille e re game 2013